Preside, un buon inizio di questo nuovo anno scolastico qui al liceo scientifico? Un buon inizio, un ottimo inizio. Siamo partiti a rilento, nel senso che pensavo di non farcela. Però poi alla fine abbiamo deciso di inserire nel rispetto delle regole del distanziamento tre annualità. Le prime, le seconde e le quinte hanno conquistato i banchi di scuola, per cui abbiamo garantito questo avvio a circa 900 studenti. Questo ci rende felici e soddisfatti per un lavoro che è durato per circa tre mesi. È una sintesi che rende giustizia di quello che è il diritto allo studio e nonostante tutte le difficoltà siamo soddisfatti. E le altre classi? Le altre classi per il momento faranno didattica a distanza o meglio didattica digitale integrata. Questo in attesa comunque di potenziare innanzitutto tutta la rete cablata, la rete che sarà anche supportata dalla fibra, che è un lavoro che ci sta impegnando anch'esso per un bel po' di tempo, da circa un mese, perché andavano sistemate delle situazioni critiche legate a una mancata connessione all'interno di tutte le aule dell'istituto ed è un lavoro certosino che stiamo gestendo ancora in questi giorni. Alla fine di questo lavoro, che è anche di tipo ci è legato a una ricognizione proprio di tutta la rete cablata, potremmo così fornire tutte le classi per poter garantire una connessione sufficiente e potente per poter sostenere anche una diretta per chi non riesce a stare con il distanziamento presente in aula. Quindi terze e quarte, che sono le classi più numerose, da lunedì partiranno con una rotazione del 50% in presenza, laddove possiamo garantire una connessione allo stato attuale, diciamo seppur blanda ma sufficiente, ad andare in diretta seguendo anche da casa, ok, altrimenti dobbiamo rimandarci da qui a 15 giorni quando verrà attivata la fibra che assicurerà invece un segnale molto più forte e potente.